Un pusher appena 18enne e il suo complice sono stati beccati dalla squadra volanti della questura di Ragusa. A finire in manette Cristofor Luminario, ragusano denunciato, invece il complice anche gli 18enne per detenzione e fine dispaccio di sostanze stupefacenti del tipo marijuana. Erano le 22 di ieri quando un equipaggio della squadra volanti, durante un servizio di controllo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, ha individuato in piazza via Monte Amiata a Ragusa un giovane alla vista della polizia. Questi ha cercato di occultare qualcosa all'interno del giubbotto, motivo per cui è stato subito sottoposto a controllo e trovato in possesso di alcune dose di marijuana pronta per essere venduta. Il fare nervoso del giovane ha indotto gli agenti a condurlo in questura dove è stato sottoposto a perquisizione personale. Negli slip sono state rinvenute altre stecchette di marijuana confezionate in modo professionale durante la perquisizione domiciliare. Sono stati rinvenuti due bilancini di precisione ed un triterba utile per il confessionamento, così come la carta stagnola presa appositamente dalla cucina della mamma per suddivisere le dosi. Il giovane, appena il 18enne, tra l'altro, ha abbandonato la scuola per dedicarsi allo spaccio. Dalle indagini degli ufficiali ed agenti della Polizia di Stato sono riusciti ad individuare in pochi minuti anche il socio di Luminario. Un 18enne ragusano che, sottoposto a perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di altra sostanza stupefacente e di un bilancino di precisione. La Polizia di Stato continuerà nell'attività di prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e chiede la collaborazione delle famiglie per aiutare i giovani nel segnalare tramite i propri figli la presenza di coetanei a volte compagni di scuola dediti ad attività illecite.